ragazzi oggi scopriremo insieme tutti i segreti di questo nuovo volkswagen amarok 2024 un mezzo molto interessante ovviamente un veicolo commerciale 5 metri 40 di lunghezza un metro e novanta d'altezza 2500 kg di peso a secco e un bel motore a 6 cilindri guardatevi questa prova fino alla fine ragazzi sarà molto interessante liberi professionisti buongiorno bentornati sul canale oggi una prova dedicata appunto a tutti i liberi professionisti le partite iva tutti quelli che hanno bisogno di un veicolo commerciale da utilizzare nel quotidiano e visto che nelle settimane scorse vi ho portato la prova del ford ranger che è andata discretamente bene ed è piaciuta parecchio ho deciso di portare anche il fratello diciamo così europeo del ford ranger il nuovo volkswagen amarok che condivide con il ranger parecchi contenuti condivide dei contenuti a livello telaistico a livello sospensivo a livello di cambio a livello di motorizzazione sono davvero molto molto imparentati sono bene o male lo stesso pick up rivisto nella forma americana da ford e rivisto nella forma diciamo così europea da volkswagen amarok che nel 2024 con questa versione guadagna parecchie skills prendendosele direttamente dal ranger perché rispetto al passato è diventato un veicolo forse più pensato al lavoro più duro e al lavoro anche fuoristradistico tanti di voi vedono questi veicoli e grazie al fatto che siano equipaggiati con tanta tecnologia pensata per il fuoristrada possono pensare che questi sono veicoli che devono essere usati per forza nel fuoristrada in realtà non è così perché questo è un mezzo che ricopre davvero le esigenze di una persona che lo utilizza sia nella vita quotidiana sia magari nel weekend per portare a spasso cose per portare a spasso famiglia sia durante la settimana per essere utilizzato in fuoristrada ma semplicemente magari in zone innevate zone fangose zone dove in alcuni giorni dell'anno in alcuni periodi dell'anno può essere più difficile arrivare qui avete un pacchettino di contenuti tecnologici e meccanici che vi consente di avere un mezzo da lavoro un veicolo commerciale ricordiamocelo sempre che vi supporta in tutte le stagioni che vi supporta in tutte le condizioni climatiche che cerca di supportarvi in tutte le condizioni di lavoro 2500 kg a secco sono tanti qualcuno di voi stare già scrivendo oh mio dio 2500 kg a secco ragazzi questa non è un'automobile è un mezzo commerciale andatevi a vedere il peso medio dei veicoli commerciali e capirete che 2500 kg non sono affatto tanti per un veicolo pensato per lavorare magari per un'automobile classica sì ma per un mezzo pensato per lavorare no in questa prima parte di video vorrei vedere con voi tutte le caratteristiche meccaniche e tecnologiche che contraddistinguono questo amaroc e ne fanno un mezzo da lavoro assolutamente eccellente volkswagen amaroc che come vi ho detto prende un carattere un po più duro un po più grezzo un po più fuoristradistico un po più maschio rispetto al passato perché direttamente dal mondo ford arriva tutta la tecnologia pensata per il mondo fuoristradistico in generale per il mondo dei fondi irregolari dei fondi scassati dei fondi scivolosi questa è un'automobile che è dotata ovviamente della trazione 4x4 nella modalità normale quindi nell'utilizzo classico l'automobile si muove esclusivamente con la trazione posteriore posizionato sul tunnel centrale c'è un pratico selettore di trazione che vi consente di portare la trazione dal posteriore al 4x4 automatico quindi la vettura in base a diversi parametri elettronici capisce quando è il caso di tenere o la trazione posteriore o inserire il 4x4 da notare il fatto che equipaggiato con il gancio traino questa è un'automobile che può trainare fino a 3500 kg frenati quindi un traino frenato di 3500 kg tre tonnellate e mezzo con la trazione integrale cosa che alcuni pick up del passato non potevano fare quindi questa è un'auto che potete usare con l'integrale automatico inserito e con il rimorchio attaccato cosa non da poco c'è poi la trazione 4x4 fissa permanente che vi accorgerete che come in tutti i casi quando inserite il 4x4 permanente nell'utilizzo stradale non è il top dei top perché andate a peggiorare quella che è la manovrabilità del mezzo ma può essere ovviamente molto utile su fondi scassati è provvista della trazione 4x4 con riduttore quindi marce ridotte ed in più troviamo ovviamente il differenziale centrale che va a bloccare la trazione sul 4x4 ma anche un differenziale posteriore che può essere bloccato quindi avete un veicolo 4x4 con riduttore marce ridotte con differenziale posteriore bloccabile che vi può togliere d'impiccio da tantissime situazioni lì siamo proprio all'estremo diciamo del mondo fuoristradistico delle potenzialità che un mezzo del genere può offrire però lo può fare diamo un'occhiata anche al cassone ragazzi perché il mio veicolo è provvisto di tendina avvolgibile in questo caso non ho il bottone per aprire e per chiudere la tendina avvolgibile elettricamente sul telecomando sulla chiave cosa che avevo sul ranger in questo caso posso farlo solo dall'abitacolo una sponda che può tenere fino a 400 kg di peso un cassone che può portare fino a una tonnellata di peso ricordiamoci che questo è un mezzo con le balestre è un balestrato con tutto quello che ne consegue e adesso lo vedremo internamente troviamo dei ganci per assicurare il carico magari con delle fasce troviamo delle luci per illuminare il cassone un cassone che dà la possibilità di avere uno spazio massimo quindi nei punti più larghi di un metro e 65 per 1 e 58 tendenzialmente ragazzi qui siamo al massimo delle dimensioni che personalmente ho visto su un pick up di questa taglia da utilizzo stradale da utilizzo classico forse solo gli americani riescono a fare di meglio ma troviamo dei mezzi che sono tendenzialmente 50 centimetri più lunghi di questo qui ci fermiamo a soli 5 metri 40 che è una taglia probabilmente da city pick up da urban pick up americano quindi davvero small davvero piccola in questo caso per il territorio italiano europeo ci troviamo davanti a un mezzo che ha una certa imponenza che ha una certa dimensione se lo vedete dal vivo vi garantisco che non è affatto piccolo discorso motorizzazioni ragazzi come ben sapete questo è un veicolo che verrà acquistato per un utilizzo aziendale quindi tendenzialmente l'iva verrà scaricata è un mezzo che avrà delle agevolazioni ovviamente anche sull'utilizzo del gasolio proprio perché immatricolato all'utilizzo ai fini dell'attività lavorativa ai fini dell'utilizzo in azienda la motorizzazione diesel è sicuramente la motorizzazione ideale ed infatti qui troviamo delle belle motorizzazioni diesel troviamo tre diesel a listino due 4 cilindri uno da 170 e uno da 205 cavalli che purtroppo non ho ancora avuto modo di provare che potrebbero essere adeguati ma su un mezzo di questo tipo pensato per spingere pensato per trasportare pensato per trainare forse a pieno carico forse nell'utilizzo più intenso anche fuoristradistico potrebbero essere un po limitanti ma questo dipende esclusivamente dal vostro gusto dal vostro budget ma soprattutto dal vostro fine ultimo di utilizzo del veicolo io in questo caso sono al volante del v6 quindi del 6 cilindri turbodiesel 3000 da 240 cavalli e 600 nm di coppia che è la motorizzazione di punta ma credo sia anche la motorizzazione più sfiziosa più golosa da equipaggiare su un mezzo così grande su un mezzo così pesante in generale per un utilizzo da daily per un utilizzo classico in questo caso oltre ad avere inabbinato tutta la tecnologia di cui vi ho parlato pensata per la trazione integrale e per affrontare fondi dissestati innevati scassati e infangati troviamo anche un cambio a 10 rapporti preso direttamente dal mondo ford che poi vedremo su strada come si comporta e vedremo se c'è da fare qualche puntualizzazione in merito andiamo a farci un giro in strada ragazzi vediamo come si comporta questo bestione ma prima di fare ciò vi chiedo come sempre di lasciare un like qui sotto a supporto e vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto grazie mille a tutti da notare il fatto ve lo faccio a notare subito che sulla maniglia ci sia la maniglia ovviamente con sistema chile se ho la chiave in tasca posso inserire la mano per aprirlo posso appoggiare il dito sul tasto che hanno posizionato per chiuderlo quindi a sfioro io appoggio semplicemente e lui si chiude ma se avete dei guanti ovviamente vi basterà schiacciare il bottone perché il touch non funzionerà questa è soltanto una delle chicchette che ci fa capire quanto questo mezzo sia pensato per l'attività lavorativa andiamo a farci un giro in strada e utilizziamo le pedane per salire perché sennò non ci salgo il nuovo amarok può essere un mezzo da utilizzare tutti i giorni assolutamente sì sia per l'attività lavorativa sia al di fuori dell'attività lavorativa ma vorrei vedere con voi alcuni aspetti che sono però da prendere in considerazione pensando di utilizzarlo tutti i giorni il primo aspetto come abbiamo già visto anche nel video del ford ranger è il fatto che siano mezzi con le balestre siano dei mezzi balestrati questo facilita le operazioni di trasporto delle cose nel cassone tendenzialmente ma durante l'utilizzo quotidiano come ben sapete la soluzione delle balestre al posteriore rende tutto il posteriore soprattutto quando scarico e principalmente quando è scarico saltellante e parecchio rigido sulle asperità dell'asfalto se abitate in una zona dove gli asfalti sono perfetti sarà una cosa della quale non vi accorgerete mai perché sì vi dico che saltella vi dico che è più duro rispetto a una classica soluzione a una classica sospensione popolare ma comunque è una balestra che è molto più confortevole è una soluzione a balestre che è molto più confortevole rispetto alle soluzioni magari di un decennio di un ventennio fa quindi se abiterete in una zona con degli asfalti pressoché perfetti o comunque poco scassati non ve ne accorgerete se abiterete in una zona dove gli asfalti non sono perfetti chiaramente vi accorgerete molto di più di questa peculiarità soprattutto in curva quando avendo la parte posteriore alleggerita e scarica perché non avete caricato magari nulla di beccate una zona scassata con delle buche tutto il posteriore tende a saltellare tutto il posteriore tende a spostarsi ma è la normalità e so perfettamente che chi è abituato a utilizzare mezzi da lavoro che siano pickup o siano cassonati sa benissimo che questa cosa può verificarsi normalmente e so perfettamente che per alcuni di voi non sarà un problema però ci tendo a precisarlo altra cosa da prendere in considerazione qui davanti ragazzi c'è davvero tanto posto qualsiasi sia la vostra altezza perché io sopra la testa ho quasi ancora una spanna da valutare l'abitabilità al posteriore perché come tutti i pickup che offrono una cabina più il cassone i posti posteriori sono adeguati secondo me fino al metro 80 metro 85 che non è male ma vedendo le dimensioni esterne del mezzo si potrebbe pensare che al posteriore ci sia tanto posto chiaramente se caricate la famiglia i bambini o i parenti per un'attività non lavorativa magari e non avete troppa strada da far fare va benissimo così se avete un'azienda dovete mandare quattro operai da brescia a napoli o da brescia a bari tenete in considerazione che potrebbero essere quelli seduti i posti posteriori più scomodi i posti posteriori ci vanno come sempre quelli più piccoli e meno ingombranti e poi chiaramente questa potrebbe essere una blasfemia per chi segue il mondo dei pickup ma è una cosa alla quale tanti non pensano questo mezzo non ha un vero e proprio baule perché se mettete due valigie nel cassone e poi partite continueranno andare a destra e sinistra sbattere a destra e sinistra tutto ciò che va nel cassone che non riuscite a mettere perfettamente ad incastro va legato perché sennò se ne va a spasso il cassone ragazzi non è da intendere come un vero e proprio baule è da intendere effettivamente come un cassone per caricare cosa lavorativa attrezzi da lavoro bancali o altra attrezzatura nonostante ci siano dei kit che lo possono far diventare un baule mettendo dei separatori all'interno oppure selezionandone solo una parte da utilizzare per appunto mettere valigie o altri accessori di piccole dimensioni questa è una puntualizzazione che ci tenevo a fare escludendo invece il discorso balestre per quello che riguarda la guida su strada vi dico che ho trovato un mezzo molto gradevole da guidare chiaramente lo sterzo è uno sterzo abbastanza demoltiplicato diciamo così una via di mezzo tra uno sterzo fuori stradistico e un comando sterzo stradale ma si usa tranquillamente e salendo a bordo vi troverete subito a vostro agio con il comando il veicolo nonostante sia alto quasi un metro 90 lungo 5 metri 40 pesante 2,5 ton a secco vi dico che si muove tutto sommato bene l'anteriore da senso di stabilità non ci sono grossi fenomeni di sottosterzo chiaramente se non andrete a forzare l'andatura se no il sottosterzo si fa sentire come si fa sentire se andate a forzare l'andatura anche il sovrasterzo cassone carico perché se andate a togliere i controlli che si possono non escludere totalmente ma solo parzializzare se al primo tornante con un filo di bagnato in terra date un pelo di gas il posteriore parte subito poi l'elettronica taglia potenza per tenervi in sicurezza però non posso fare altro che dirvi che tutto sommato l'auto si guida bene a me anche la scelta di mettere questo cambio 10 rapporti che per molti non è adeguato secondo me invece è super adeguato perché è un cambio molto fluido chi usa mezzi pesanti chi usa mezzi da trasporto pesanti chi usa trattori chi ha avuto esperienza con i trattori io in passato ho avuto esperienze con i trattori sa perfettamente quanto avere tanti rapporti sia un vantaggio quando si tratta di a andare in fuoristrada b quando si tratta di trainare qualcosa perché avete sempre il rapporto giusto inserito e questo è un cambio che secondo me su strada va benissimo perché è molto dolce nella cambiata è molto fluido e non vi darà il senso di continuare a cambiare il rapporto che è la cosa che ha tanti disturbo secondo me va benissimo così perché è sempre molto morbido e dolce nella cambiata ma in fuoristrada ma in caso di trasporto di oggetti pesanti in caso di traino avrete sempre il rapporto giusto inserito soprattutto considerando il fatto che c'è tutta un'elettronica che funziona in favore del trasporto e del traino diamo un'occhiata ragazzi agli interni ovviamente apertura con sistema keyless pannello porta cose da segnalare sicuramente questo manovellismo per la maniglia con questa bella apertura molto pratica anche se avete dei guanti da lavoro per quello che invece riguarda la qualità costruttiva plastiche abbastanza dure su tutta la parte alta e su tutta la parte bassa qualcosa di morbido dove si appoggiano i gomiti e qualcosa di morbido in questa zona ma comunque è e rimane un mezzo da lavoro accessibilità interna garantita da questa bella pedana che lavora in simbiosi con questa bella maniglia quindi per salire a bordo non si fa affatto fatica da notare il fatto che ci sia un volante preso direttamente dal mondo vague con dei bei tasti fisici e non tasti touch posizionati sulle razze monitor ovviamente digitale del sistema frontale e anche ovviamente monitor digitale per quello che riguarda il sistema di infotainment che racchiude tutti i comandi principali per l'utilizzo anche il climatizzatore è stato inglobato all'interno diciamo così del sistema di infotainment non troviamo dei tasti fisici abbiamo tasti fisici invece per attivare la modalità parcheggio automatico perché questa è un'auto che può parcheggiare completamente da sola un richiamo veloce per le impostazioni del clima come ho appena fatto un richiamo per i sistemi di assistenza alla guida perché quest'auto arriva fino alla guida assistita di secondo livello e un richiamo per le modalità di guida poi l'interno sembra un interno progettato e costruito per durare nel tempo a livello di qualità troviamo principalmente plastiche ma sono plastiche che a me personalmente danno l'idea di plastiche fatte per durare negli anni fatte per durare per resistere a tutte le intemperie parlando invece della motorizzazione ragazzi vi devo dire che questo v6 mi ha lasciato davvero entusiasta perché ha tanta coppia 600 nm di coppie disponibili da bassissimi giri motore a me è piaciuto anche nella timbrica quindi un motore che quando fate un bel pestone full gas vi fa sentire proprio la potenza la violenza del v6 pochissime vibrazioni diciamo così qualche vibrazione in più rispetto a un sei cilindri in linea però comunque pochissime vibrazioni rumorosità sempre sotto controllo quando andate a spasso tranquilli davvero ragazzi gran motore che riesce a offrire delle prestazioni di tutto rispetto perché siamo in uno 0 a 100 sotto i nove secondi ma non fregarà a nessuno dello 0 a 100 sicuramente vi dico che mentre siete in marcia quando date un bel pestone sul gas è un motore che davvero riprende con tanta facilità con tanta scioltezza con tanta spinta con tanta forza vi dà letteralmente il senso di essere al volante di un veicolo di un mezzo da lavoro come sono i mezzi da lavoro a trasporto pesante davvero alleato eccellente per questo amaroc consumi prezzi e difetti particolari ragazzi consumi sono identici ovviamente a quelli del ford ranger siamo a 10 chilometri al litro di consumo medio utilizzandolo bene si arriva a 10 5 10 e 8 chilometri al litro 11 chilometri al litro quando proprio beccate l'extraurbano tranquillo la media è quella di 10 chilometri al litro che come abbiamo già visto parlando di automobili classiche potrebbe essere una media elevata ma questa non è un'automobile classica bensì un mezzo da lavoro tant'è vero che inclusi in un parco mezzi un veicolo di questo tipo che vi fa i 10 chilometri al litro potrebbe addirittura essere un veicolo parsimonioso nei consumi parlando di prezzi ragazzi il veicolo che vedete nelle immagini è in allestimento di punta della gamma amaroc quindi l'allestimento più bello con ovviamente il motore più grosso con la trazione più sofisticata e con il cambio più evoluto alistino che è il cambio di sia rapporti quindi ha il prezzo più alto di tutta la gamma e si parla di circa 60 mila euro iva esclusa la gamma amaroc in allestimento base con il motore base da 170 cavalli parte da circa 40 mila euro iva esclusa quindi ci sono 20 mila euro di differenza tra questa variante la versione che vedete nelle immagini che sto guidando io e la variante di amaroc basica signori da tenere in considerazione il fatto che questo è un mezzo grande e pesante quindi attenzione alla frenata la potenza c'è la modulabilità è buona è sempre da tenere in considerazione il fatto che il mezzo è grande e pesante se lo caricate ulteriormente diventa ulteriormente più pesante quindi attenzione alla potenza frenante e alla frenata in generale uno secondo aspetto da considerare questo mezzo monta tutti gli adas più moderni arrivando fino alla guida assistita di secondo livello ecco perché anche in questo caso diventa un mezzo da utilizzare tutti i giorni perfetto non mi è piaciuto il fatto che una volta inserito il cruise control adattivo che tra l'altro funziona abbastanza bene io si è obbligato a metterlo in pausa esclusivamente toccando il pedale del freno perché non c'è un tasto dedicato per mettere in pausa il cruise control c'è un tasto dedicato per togliere il cruise control quindi ogni volta va risettato terzo aspetto come vi ho detto ricordatevi il discorso delle balestre non aggiungo altro quarto aspetto se siete occupanti non troppo alti come me il bracciolo centrale è un po' troppo arretrato non mi sarebbe dispiaciuto avere un bracciolo centrale scorrevole per portarlo un pochino più avanti essere un pochino più comodo alla guida ultimo ma non ultimo ho apprezzato il fatto che vag abbia lasciato i tasti fisici sul volante e non vedevo altra soluzione perché utilizzando questo mezzo magari con i guanti con il tasto touch non riuscirete praticamente ad utilizzare nulla fortunatamente volkswagen ha lasciato i tasti fisici sulla razza del volante ma mannaggia loro hanno incluso il climatizzatore nel sistema di infotainment si è persa una grossa fetta di praticità perché ancora una volta se avete i guanti praticamente il climatizzatore non riuscirete a regolarlo e soprattutto se avete le mani sporche perché tante volte su questi mezzi ai me si sale con le mani non troppo pulite dover andare a toccare uno schermo completamente touch non è pratico quanto poter avere dei bottoni da schiacciare e delle rotelle da girare ragazzi penso di avervi detto tutto su questo volkswagen amarot sarà che io ho un debole per i mezzi commerciali per i mezzi grossi pesanti e con questi motori ma è un veicolo che mi è piaciuto davvero davvero tanto fatemi sapere appunto come vi siete trovati con i vostri veicoli noi ci vediamo nel prossimo video nel prossimo test drive nella prossima prova su strada ciao ragazzuoli ciao 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 ciao